buongiorno a tutti oggi siamo qui in un campo che stiamo tagliando dell'olieto iva tecno zoo quest'anno nonostante la nata super siccitosa il prodotto c'è e ce n'è tanto colore verde intenso questo è un l'olieto tetraploide tardivo quindi vediamo che il nostro cliente per motivi di necessità deve deve tagliarlo un po prima per fare il fasciato quindi deve ancora raggiungere la maturazione ma vediamo che l'olieto ce n'è tantissimo seminato a 40 kg per ettaro prodotto notiamo anche dal taglio che non era neanche tanto allettato nonostante le piogge battenti di questi giorni però il prodotto c'è adesso andiamo a vedere l'ultima macchinata finché in piedi finché in piedi l'ultimo giro eccolo ecco prodotto infatti come si deduceva abbastanza in piedi un verde super intenso con una foglia larghissima prodotto a basti pensare a foglia molto 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 larga e un colore verde intenso e dai fusti anche molto sottili quindi una rapida essiclazione quindi Grazie a tutti.